Sarebbero state opportune delle indagini dirette sulla cima degli stralli, la parte più soggetta a rischio corrosione, che non vennero però mai pianificate ed effettuate. Fabio Brancaleoni lo ha ribadito in udienza, chiamato a testimoniare sull'attività di consulenza fornita da Edin tra il 2015 e il 2016 nell'ambito del progetto di retrofitting che doveva rinforzare gli stralli delle pile 9-10 del Ponte Morandi. Lo consigliamo, ha precisato Brancaleoni, perché era il modo corretto di procedere e non perché ci fossero segnali di un crollo, altrimenti, ha aggiunto, avrei insistito di più. L'ingegnere, docente ordinario alla Sapienza di Roma, ha poi raccontato di come Aspi avesse cominciato a predisporre il piano di retrofitting senza avere il progetto completo originale del viadotto. Fu lo stesso Brancaleoni così a contattare Maurizio Morandi, il figlio del progettista, facendosi autorizzare a prelevare dall'archivio di stato la copia integrale. In aula ancora protagoniste, dunque, le testimonianze dei consulenti esterni e degli allarmi rimasti inascoltati. Nelle prossime, altri teste chiave chiamati dall'accusa. Da Carmelo Gentile, professore che svolse uno studio sul viadotto rilevando anomalie, all'attuale a Didi Aspi Roberto Tomasi, fino a Gianni Mion, ex amministratore delegato della Holding dei Benetton Edizione. In un interrogatorio due anni fa disse ai PM che Autostrade sapeva dal 2010 che il Ponte Morandi era a rischio crollo, che c'era un difetto di costruzione e che la sicurezza se l'auto certificavano.